Possesso palla, stile Barcellona adesso, la parte dei, giocatore dei Borracios e Capoli, col Mancino, il lampo di Genio, il lampo di classe e di Cavoli, regala l'1-1 e Borracios, probabilmente non meritatissimo, ma è comunque arrivato e ci voleva la sua giocata, ci voleva il suo estro per risolvere una situazione complicatissima per il Nero Arancio, che adesso si portano sull'1-1. Tanto parte Graziano, e trova un 5-2, magnifico, Marco Graziano da centrocampo, forse Cuccia poteva di più e riapre la partita forse Titans. 6-1, si goda il primo set. Bene, è contro la Foresta, il pallonetto! Ma che gol straordinario di Foresta! Nel momento nero dei Focca Juniors, Foresta accende la luce, Foresta si inventa una magia, signore e signori. Ma che giocatore è? Qui intanto partono i guti, bella secondo lui, si cappoggia per Nuzzo, Nuzzo potrebbe dare la bella palla per Minnella. Minnella salta a Mantia, ancora Minnella e soffia! Il ciclone torna a soffiare, il ciclone Minnella, ma ci vuole ancora molto per radissare le sorti della partita. E adesso la partita sta entrando nel vivo, qui è palla adesso per Paolo Spataro, punta migliaccio. Paolo Spataro ha la possibilità di portarsi la palla sul destro e vince il ripallo. Pizzuto! Pizzuto! Pazzesco il pareggio dei Bulldog con il capocadagnere della Serie A, signori, è lui Gianluca Pizzuto. Chapeau!